Sono partita qua facendo un tirocinio e sono stata inizialmente collocata subito nell'ufficio stile perché a me piaceva l'idea di poter fare la stilista, di disegnare e realizzare il capo progettato. Ho deciso di cambiare perché volevo capire la maglia dall'inizio alla fine, ovvero dalla rocca alla maglia finita. Mi sono affiancata ad una signora che adesso è andata in pensione che mi ha proprio fatto appassionare. Secondo me quello che impari lavorando non lo impari a scuola. Il modo di vivere cambia, stando con ragazzi o stando con persone più adulte che ti insegnano comunque un mestiere, che ti fanno appassionare. Sicuramente è un'esperienza che vale perché io a oggi posso comunque essere autonoma.